Vieni qua, che si è un musetto originale Un'altra cascatella di limone Tagliamo l'acendopelle Ciao amici, abbracemi ancora Direttamente da uno strettissimo ascensore di Napoli Io e Paola oggi andremo a mangiare una cosa molto insolita Abbiamo 40 minuti di strada da fare E' il taxi? Imola 5 Ti sei scordata dal telefono? Sopra, sì, non fa niente, non fa niente che non ho il telefono Ce l'hai te, va bene Hai messo fretta, tu mi metti fretta Simpatica questa cosa perché me e Paola abbiamo un accordo Io mi occupo della parte tecnica e Paola della parte logistica Paola sceglie i posti e come è entrata il taxi Mi sono scordata dal telefono Vabbè mi sono scordata dal telefono ma dove dobbiamo andare lo so Che ci siamo persi? Io c'ho fame Ma dove sei pure io? Il tassametro diceva 16,50 euro Poi gli ho chiesto quant'è? 28 Gli ho detto ma il tassametro dice 16,50 euro Dice ma siamo fuori zona Vabbè c'è stato verso Alla fine abbiamo chiuso la trattativa con 25 euro A me mi passa che secondo me il simpatico tassista ci ha fregato Dice che fa parte dell'experience Sì vuoi sapere quanto ti ho portato? Vai Ti ho portato da Sasa la trippa a Magna o Peromousse Quante stelle c'ha Sasa la trippa? Assai Ciao Sasa A dove vengo? Un'onore e piacere con tutto il cuore Allora saliamo su e andiamo a preparare subito un bel passetto di trippa Nel dietro le quinte di Sasa la trippa Un'esclusiva di Brasciani e Cora Guarda che buona Vai non ti preoccupare Qua abbiamo una grande fagiolata Vedi pina di sassicce Dove stiamo di preciso? Questa che parte è di Napoli? Noi ci troviamo a Barra via delle Repubbliche Marinare A Barra Sasa parlavose chiaro La vedi questa chef? Sì Saranno due anni che mi parla di te Ma io la stavo aspettando Sai per fare cosa che cosa? Per fare cosa? Eccola qua Dovevo fare così Dovevo fare Un bacio Quindi stasera Che se mangiamo? Stasera vi prepararò un bel passetto di trippa Classica sale e limone Tagliamo la centopelle Che sarebbe la centopelle? Sarebbe, fa parte della trippa Il fogliolo in italiano E noi la chiamiamo la centopelle Perché c'ha tante foglioline Vedete? Eccola qua La centopelle Eccola qua Eccola qua La mia preferita Eccola qua Poi Andiamo a tagliare al dadino Sì Poi prendiamo un po' di coppa di maiale Eccola qua Questo sarebbe Operium mousse fatta a sasicciotto Come fanno le sassicce Solo che questo è un po' più grande Sì Mi piace Scusami Una cosa Sto guardando da quanto si è arrivato Non vedo il vacchio Non c'è la bistecca di vacchio Di manzo giapponese Da mille euro al chilo? Da mille euro al chilo no Non c'è la Che sia un musetto originale Questo è il musetto Guardate qua Del vitello È tutto magro Ma C'ha un odore spettacolare Eccolo qua Andiamo a fellare così Il musetto del vitello Bella Bellissima Dopo Mi prepari Un bel bassoio La mammella Del della mucca Io Quando lo seguivo Vabbè la trippa Per omus Ok Si può trovare anche a Cassino Che è la mia città originaria Ci sta Ma La mammella di mucca Non la trovi Da per tutto Quindi Sasa Che c'ha sta mammella Infatti quando l'ho chiamato E venì qua Ha fatto Sasa Adini la mammella Fatto lui È regolare E siamo venuti E quindi adesso Non vedo l'ora Di assaggiarla Io Eccolo qua Allora a te L'onore Perché ti ripeto E onore e piacere Vieni qua Prendiamo questa fettina Dammi un po' di limone Gli mettiamo un po' di sale Eccolo qua Allora Andiamo a premere un po' di limone Vai Mamma mia Mamma mia Facciamo gin gin Facciamo gin gin Va bene gin gin Ragazzi Stai vai Mmm Ragazzi La mammella Bisogna imboccarla Per rassaporarla È buonissima C'è qualcosa In questa organizzazione Che non mi quadra Cioè io riprendo E voi mangiate No 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 Dammi la telecamera Ma fai sullo filmino Fai Mangia Vieni qua Quindi qua Mi sono fatta la barba Mezz'ora fa E dopo barba Al limone Mi mancava Quindi Prendiamo un bebbassoio Quello là grande Andiamo a salarla Questo è corno Eccolo qua Allora Questo è corno Ma non è che onore Vai Vado Vado L'hai fatto così E poi Lo devi spacchettiare Ole Brava Bravissima Ole A te Io mi sono perso Qui vai troppo veloce Allora Mi fai un riepilogo Di tutte le parti Questo è le cento Cento pelli Giusto? Questo qua È cento pelli Questo qua È una parte della trippa Ok È un foiolo Questo qua Invece È la coppa piccante Quella là che abbiamo tagliato Questo sasicciotto qua Vedi? Mi piace È questo qui Sarebbe questo qui Perfetto Poi Questo qui È il musetto Questa parte qua Carnosa Che abbiamo tagliata Bella Ok E poi abbiamo messo La trippa La classica La classica trippa Che sarebbe questa coperta qui È lei E ora Che facciamo? Ora Andiamo a mettere Tutto nel bassoio Il sale L'abbiamo messo Sì sì E abbuffarmi il limone Tutto coso Bello Attenzione Gli occhi E uno Un'altra cascatella di limone Prepara i limoni Giossi Eccolo qua Poi che facciamo? Che facciamo? Un altro pochettino di sale Perché se ne è sceso con il limone Eh sì E gli continuiamo a mettere un altro po' di limone Qua ci viene tutto veramente saporito È bello E poi alla fine un po' di pomodorino così Eccolo qua Amici Ora devi sapere una cosa Sembra tanto Però in queste preparazioni qua Quando loro lo tengono a mollo nell'acqua Ci va tanto tanto sale e tanto tanto limone Sennò non saprei niente Dico bene? Sì Ho pronunciato bene? Sì sì Quindi non vi spaventate che vedete la quantità di sale Ci va tutta Perché è come se se lo mangia il prodotto stesso E quindi anche il limone stesso Ti facci tutti quanti i sapori Mo' ti faccio capire Io ti ho portato da Opera Omus Lo vedete Opera? Opera Eccolo qua E le Opera 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 O Zambon Omus Allora Omus E Opera E Opera E Omus E poi attorno a queste due cose c'è tutto un mondo Ciao ragazzi Breve interruzione per una comunicazione importantissima È uscita la classifica delle migliori 21 stack house d'Italia La trovate sui nostri social Facebook e Instagram E anche sul nostro blog Braciamiancora.com Le 21 migliori stack house d'Italia Le riconoscerete perché all'esterno Affiggeranno questa targa Inconfondibile Sono ristoranti dove si mangia da Dio Dove l'offerta carnivora è super Andate a trovarli E dite che vi manda Braciami ancora Ciao Questo cos'è Sasan? Questo è il piede di vitello Che noi lo chiamiamo Ocarcagna Eccola qua Vedi? Questo come lo prepari? Quanto tempo ci... Eh questo ci vuole a meno un'ora e mezzo di cottura Sasan tutta sta bella roba dove la prepari? Negli appositi dei laboratori dove viene bollita Dove viene sgrassata, pulita Viene tanto di certificato di provenienza Perché noi dobbiamo capire cosa stiamo mangiando Da dove viene, a chi affiglia sta muc Cioè ogni passaggio come deve funzionare Quanto è che fai il tuo lavoro? 13 anni già tagliavo la tricola Quindi vi lascio immaginare che oggi ne ho 42 Vi lascio immaginare da quanti anni Vabbè c'hai 30 anni di onorata carriera Eccolo qua Una cosa sobria hai fatto? Perfetto Una cosa sobria Tra l'introduzione di ricerca Paola, facciamo così Usciamo fuori a mangiarlo, va bene? Va bene Così Sasan lavora Posso lavorare in tranquillità Sasan Non ti preoccupare, torniamo presto Me l'ho scordato, ma che pezzo è questo? Allora, questo è OPERUMUS Paola, io sto sincero Ancora non ho capito Ma OPERUMUS La traduzione qual è? Piede e muso C'è il famoso NOS TO TAIL Ma regà, il NOS TO TAIL È riferimento al quale vi ho fatto una capa tanto A proposito di mangiare l'animale Dal muso alla coda Qui a Napoli viene ampiamente Ampiamente, diciamo, interpretato Da Sasan la trippa Da tanti tripparoli Con questa roba e ci stiamo mangiando Ok Questa è la mia preferita Non è per tutti Facciamo vedere la tua preferita Questa, Paola, è la tua preferita? Sì I 100 pelli? Perché ti piace tanto questa? Perché, allora, innanzitutto per il sapore E poi per questa Per la consistenza Vedi? E si chiama così Perché ha tutte queste pelli trastagliate Oh È uno dei vari stomaci del burino Questo è il musetto Il muso Lo vedi com'è? Questa è cartilagine E poi c'è anche Il tessuto connettivo Sì C'è anche la carne Il verbetto Ho capito perché ci mettono il limone E ho capito perché ci mettono il sale Perché il sapore è molto soft Sei una ricercatrice di posti pazzeschi Senti, mi è venuta un'idea Ti andrebbe di fare un format intitolato Grigliatori in trattoria Eh Io so che tu le conosci le trattorie Sì, sì, perché a me oltre a cucinare mi piace tanto andare a mangiare C'è già qualche indirizzo Però facciamo così, Paola Io ci metto la parte tecnica Tu la parte logistica E non ti scordi il telefono Va bene? No Adesso mi mangio la zizza della mucca Questa è la cosa che mi piace più di tutte Mi è assaggiata E' buonissima Aspetta, aspetta, aspetta Noi c'eravamo distratti e tu hai preparato Che ci hai portato? Bruschette con trippa marinata Con provola affumicata E capocollo E cassana fagiolata E bombardata di sasicce Buonissima Trippa, provola e capocollo Una roba esagerata Quando venite a Napoli Se magna Se magna Se magna Attrazione popolare Paola ha deciso Si porta a casa questi pomodori I famosi pomodori Ma me li ha regalati Ah ti ha regalati Te li ha regalati Guarda qua A me me regalano mai un cazzo Paola Che particolarità hanno questi pomodori Allora questi sono i pomodori del Piennolo Si crescono alle vendici del Vesuvio Quindi il terreno del Vesuvio Gli dà un sapore e una conformazione unica Sanno di sole Sanno di Napoli Sanno di sole E' vero male che non lo manco bevuto E' fai sapere amici eh Mamma Non torno più Rimango qua la sua sala trippa Poi le mando l'indirizzo Mi vieni a trovare Ciao Ragazzi è inutile che ci giro intorno A me questi format piacciono da morire A Roma Lo sozzone Diciamo come lo chiamiamo noi Il furgoncino che trovi in giro per la città Ci sta Ma al limite ti fa la porchetta Non ti fa queste robe Queste robe le trovi da Roma in giù E fidatevi ragazzi E' la bellezza di questi posti E' la bellezza del sud Italia Che ti regala questo cibo povero Ma arricchito ragazzi con la loro cultura Le loro tradizioni Le loro usanze Se vogliamo tanto sale e tanto limone Costa poco Però ragazzi vi posso assicurare Questa è una delle cene più belle Che abbia mai fatto in vita mia E sono estremamente felice Di poterle condividere con voi Io per dire perché parli da solo Dicendo sta Paola E Paola sta da sasà a chiacchierare E' rientrata dentro il furgoncino Senti Dimmi Io mi faccio il servizio con stasà Va bene Va bene Rimango con lui a fare opero mousse E' la trippaiola allora Faccio la trippaiola stasera Io ho mangiato tanto bene A Roma quando è una cosa buona Noi diciamo portacci quanto è buona Qui a Napoli come dite Quando è una cosa buonissima Ma come è saporita E' troppo bella Paola Eh Allora c'è una brutta notizia Che? Abbiamo finito il budget Veramente Quindi Tesoro mio si torna in centro Con Con l'autobus Saranno 20 e mezz'ora di autobus Senti Io il telefono scarico Tira fuori il cellulare tuo Così vediamo E poi l'ho scordato Apposta così Bene amici di braccia E ancora Si conclude così Questo nostro blog Video Diverso dal solito Ma avevo tanto piacere A raccontarvi L'opero mousse In compagnia di Paola Noi in qualche modo Torneremo a Napoli centro Ma quello è l'ultimo Dei problemi Ragazzi Fatemi sapere Se video del genere vi piacciono Sono un pochino più sporchi Ma sicuramente più ruspanti E sempre saporiti Com'è nel nostro stile Ovviamente mangiamo sempre carne Non è che ci disgustiamo più di tanto Però stasera la trippa Meritava Paola grazie No grazie a te Dai che mi ha accompagnato Dici ve lo portato Dai ci sopportiamo a vicenda Si può dire? Si Ok Torni a fare un video con me? Vediamo La solita Ciao amici di braccia E ancora Ciao Un abbraccio E che l'abbraccio sia con voi E che l'abbraccio sia con voi